Quante volte ti sei sentita arida, affaticata, depressa dalla quotidianità, imbavagliata? Quanti fragili sentimenti hai visto infrangere sulle scogliere della confusione? Zittita, avvolta dalla vergogna della non ispirazione, verso un mondo che inizia a starti stretto, un mondo dall'immagine distorta, che non ti appartiene, non ti è mai appartenuto, e mai lo sarà. Quando, dunque, potrai tornare a casa? Quando potrai finalmente sentirti libera, felice, in armonia con quella terra da cui tutto ha vita e a cui tutto prima o poi deve tornare? Quando finalmente riuscirai a sentirti viva? Ma dentro di noi, quei sentimenti, quel vento, non smetteranno mai di esserci. È inevitabile. Arriverà un giorno in cui non potrai fare a meno di ascoltarlo, di seguirlo e soffiare insieme a lui. Arriverà un giorno in cui prenderai coscienza e inizierai un nuovo cammino, passo dopo passo, in salita, verso una nuova immagine di ciò che è davvero il mondo. E allora tutto avrà un senso. Ti slegherai dalle catene e inizierai a camminare fianco a fianco con la vita vera. E forse non sarà facile raggiungerla. Ci vorrà del tempo, ma... Grazie. 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 Grazie.